Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Comunico che con due mie ordinanze del 4 agosto e del 24 agosto ho nominato la dottoressa Rosalia Alba Castiglione come assessora al patrimonio e alle politiche abitative, la dottoressa Margherita Gatta, assessora alle infrastrutture, e il dottor Gianni Lemmetti, assessore al bilancio. Entrano a far parte della Giunta tre professionisti che daranno un contributo fondamentale in tre settori strategici dell'amministrazione e sono certa che metteranno a disposizione tutto il loro lavoro e la loro capacità per riuscire a migliorare l'attività della Giunta. I sensi dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale comunico altresì all'Assemblea che con ordinanza del 24 agosto scorso ho proceduto alla revoca dell'incarico di componente della Giunta Capitolina all'assessore al bilancio, dottor Andrea Mazzillo. Ringrazio l'ex assessore Mazzillo per il lavoro svolto nell'ultimo anno in due settori fondamentali che sono quello del bilancio e del patrimonio e per aver gestito insieme all'assessore Laura Baldassarre il delicato settore delle politiche abitative che grazie a un lavoro di squadra ha portato nel mese di luglio scorso alla predisposizione di due delibere importanti di riorganizzazione dell'intero settore. Tuttavia a seguito della non coincidenza di visione su alcuni punti del programma le nostre strade si sono divise al suo posto è entrato quindi l'assessore Gianni Lemmetti a lui e alle due nuove assessore auguro i migliori auguri per svolgere un compito così importante e delicato. Ci auguriamo e ci aspettiamo tutti molto da voi. Grazie.